Leonardo Silva Revisore. 18 Leonardo Silva Revisore. Voi sapete chi è questa persona? Sì, no? Questa persona è Leonardo Nimoy. Chi è Leonardo Nimoy? Vai! È Spock, brava. Quello lì è il dottor Spock. Nessuno l'avrà riconosciuto, forse solo lei. Quando però vi ho detto che è il dottor Spock, chi è che conosce il dottor Spock? Un sacco di persone. Lui è un attore, è un artista, è una persona che non è un lavoro vero, fare l'artista non è proprio una cosa, cioè non è che ci paghi il mutuo di casa, invece è un lavoro vero, è un lavoro dove sei laureato, sei ingegnere, sei medico, sei avvocato. Sapete chi è questa persona? Lei ha un lavoro vero, lei è un pilota militare, è un astronauta, è Samantha Cristoforetti, conosce cinque lingue, due lauree, in questo momento è in orbita e il problema con Leonardo, che è quello di prima, è che l'anno scorso è morto. Per cui quello che è successo è che lei in orbita, ha fatto questo gesto, che è il saluto di Star Trek, e ha indossato la maglietta di Star Trek, ed effettivamente se però voi ci pensate bene, lei è in orbita perché come voi è stata ispirata dal film di Star Trek, per esempio, voi siete stati ispirati da un altro libro, da un'altra cosa, da qualsiasi altra roba che ha scritto un sognatore, e un sacco di gente si è sbattuta per costruire l'astronave su cui è lei adesso, perché quella lì è la stazione spaziale, è fisicamente in orbita, e quella lì è veramente la curvatura della Terra. Lei probabilmente è astronauta perché voleva fare come Star Trek, è andata nello spazio, voleva esplorare lo spazio, come voi avete fatto le vostre scelte dopo che avete visto un film, avete letto un libro, avete fatto qualcosa che vi ha ispirato. Per cui è vero che gli ingegneri o quella gente lì sono importanti, hanno un lavoro serio, ma anche i sognatori, anche quelli che inventano cose pur non facendole fisicamente, sono importanti, perché sono loro che ispirano il futuro, e poi è altrettanto importante, c'è un sacco di gente che il futuro lo inventa per davvero. Per cui io faccio computer grafica, se volessi fare medicina il mio problema sarebbe che ho un sacco di anni di storia da studiare, tantissimi, un sacco di libri, un sacco di cose, se volessi fare architettura, un altro lavoro serio, non è che mi va tanto meglio, perché anche lì ho un sacco di anni da studiare, se volessi fare ingegneria, wow, anche ingegneria forse è ancora peggio. Fotografia mi va un po' meglio, perché fotografia ho tipo due o trecento anni, quindi insomma mi va abbastanza bene. Se voglio fare invece computer grafica, ieri, perché la computer grafica praticamente è nata ieri, quindi si studia veramente poco, ho fatto computer grafica. All'inizio, all'inizio la forma di chi fa computer grafica è questa, per cui quando uno dice io faccio computer grafica, la seconda domanda che ti viene detta è ma senti un problema con Word, me lo sistemi? No, io non lo so usare, Word è impossibile, tu sei un genio. No, perché la gente ha in mente quella roba lì, la gente ha in mente quello lì dietro al computer, che fa delle cose incredibili, in uno scantinato, non parla con nessuno, nessuno sa cosa fa quella persona. Poi a un certo punto però è uscito questo film al cinema, che l'hanno visto probabilmente sette persone, in sala qualcuno l'ha visto? E sono tutte presenti, quindi è un momento storico, è un momento storico. Questo film era la prima volta al mondo in cui si usava la computer grafica e la usavano degli artisti per fare delle cose che prima facevano soltanto ingegneri o altra gente cervellona, no? Però la gente non l'aveva capita bene, allora ci ha pensato la Pixar e ha fatto questo, chi è che ha visto Toy Story? Da lì si è capito praticamente che la computer grafica non solo poteva fare soldi, ma poteva raccontare un sacco di storie, che la tecnologia non era più così complicata e che gli artisti finalmente potevano usare la computer grafica al pari di una penna. Quindi da quel punto, allora adesso facciamo un piccolo corso di computer grafica. Quello che fa un artista di computer grafica normalmente è aprire il suo computer, aprire Maya, che è un software come gli altri, come 3D Studio Max o qualcosa del genere, schiaccia un bottone con scritto Create, dopo su questo bottone schiaccia Polygon, Cube e muovi Vertice. Questi sono comandi veri che esistono all'interno del software. Lo rifà un milione di volte, tutto il giorno fa questa cosa. E alla fine ottiene questo. Fico. Lo rifà ancora un sacco di volte per tutto il giorno, magari anche un paio di settimane, e alla fine voi vedete questo. Perché realizza l'astronave di Star Trek, i film li realizzano così, muovendo i vertici. Ma la cosa più interessante è che c'è un sacco di gente che studia le onde gravitazionali, i buchi neri, i motori a curvatura, il teletrasporto, vuole andare su Marte, proprio perché è stata ispirata da questa cosa qua. Perché un sognatore ha realizzato questo film, voi siete già andati su Marte, avete già visto The Martian o un sacco di film che vi hanno già descritto Marte. Voi ci siete già stati, tutte le missioni che adesso andranno su Marte per voi sarà, vabbè, normale, andiamo su Marte. Per far questo, vedete, ci sono un sacco di film che vi ispirano continuamente ogni giorno, un sacco di sognatori, un sacco di gente lavora delle cose che probabilmente altre persone realizzeranno. Io ho la fortuna di lavorare in una scuola dove coltiviamo un sacco di questi sognatori. Oltre a insegnargli la computer grafica per spiegarglielo chiaramente che tutto è possibile, quello che facciamo li portiamo lì, nel niente, nel deserto tra lo Utah e la California. Prendiamo dei ragazzi che hanno più o meno tra i 20 e i 25 anni, dopo avergli fatto un corso di computer grafica, li abbandoniamo lì in mezzo con 10 jeep e gli diciamo fai quello che vuoi, tutto è possibile. Vuoi andare da qualche parte? Facci. Vuoi andare lì in mezzo? Vai. Vuoi andare a vedere con sette macchine cosa c'è nel niente? Vuoi farlo? Fallo. Parti e vai. Perché lo puoi fare, è possibile. Se io adesso prendessi una bacchetta magica e vi riportassi indietro, magari qualcuno di voi ha più di 40 anni, credo io, 40 anni, per cui se mi portessero dare una bacchetta magica e rimettermi a 15 anni, se io volessi fare l'astronauta probabilmente adesso sarei in orbita. Sicuro al 100%. Chi è che di voi è convinto che se lo rimetto a 15 anni cambia drasticamente la propria vita? Solo io? Due? Vabbè, solo noi quattro. Tutti gli altri? Avete avuto la vita perfetta. Fantastico. Quello che dobbiamo spiegare ai ragazzi è questa cosa, renderli consapevoli non a 40 anni del fatto che puoi cambiare la vita, ma farlo adesso, cioè in questo istante esatto, spiegargli che tutto è possibile. Voi per esempio guardate questo panorama incredibile, cos'è che notate in questo panorama incredibile? Quella stella? Quella non è una stella. Questa fotografia qui l'ha fatta Curiosity su Marte, quello è Marte, e quella stella, quel pixel che c'è là in mezzo è la Terra. Noi siamo su quel pixel lì. Quindi tutti i casini che fate, io faccio così perché non vi vedo, tutti i casini che fate, le guerre, i problemi, il fatto che il petrolio, mille casini, mille euro, noi quello lì. Da Marte è incredibile, tutto si ridimensiona perché Marte è il nostro vicino, Marte è veramente dietro l'angolo, non è un problema arrivare su, è un problema arrivare su Alfa Centauri, andare in altre galassie, c'è un sacco di roba in mezzo. Possiamo scoprire un sacco di cose incredibili, fichissime, chi fa computer grafica c'è già stato, avete già visto Star Trek, tutte quelle robe lì, no? Dovrebbe vederlo anche la gente normale, perché quando vi rendete conto che siete su quel pixel lì, potete essere solo due cose, o sognatori e inventate il futuro, o essere ispirati da un sognatore e lo create veramente il futuro. Se siete in mezzo, state perdendo tempo. Grazie.